La guerra non libera mai l'uomo dalla guerra, la guerra rimarrà sempre l'atto più bestiale dell'uomo e purtroppo la storia si insegna anche in questi giorni che l'imperialismo, che la necessità di dominare gli altri attraverso la violenza non è cessato, non è cessato, non è cessato, non è cessato. Per quel popolo risparmiato da cannone. Grazie.